Ciao a tutti ragazzi e ragazze, oggi siamo qui in un nuovo video, questo è il mio telefono e questo è un nuovo video perché volevo farvi vedere cosa c'era nel mio telefono, iniziamo allora nel mio telefono c'è youtube, whatsapp, gallerie, qui ci sono tutte le foto che fra poco, ho sbagliato, qui, fra poco avrò questo telefono, non vedo l'ora, iphone 8 plus poi chrome, poi un gioco sulle ballerine, blocco note, calcolatrice, non può mancare calendario poi di nuovo chrome, i contatti rubrica, poi c'ho homeland dove scarico le cose e qui dentro mi spuntano, poi drive, poi duo in cui posso fare videochiamate pure in 3 e in 4, poi c'ho email, facebook, foto, qui spuntano pure le foto, tutte le foto che c'ho, tutti i video, poi fotocamera, ok poi c'ho galleria, di nuovo gestioni file, gestioni telefono, qui è l'antivirus, gestioni telefono poi c'ho gmail, google, icar, impostazioni, l'app world 3, c'è un altro gioco, google maps, l'app del mcdonald che non può mancare, i messaggi, messenger, meteo, la musica, poi orologio, play film, poi c'ho, poi c'ho play musica, play store, radio fm, poi registratore, poi c'ho pure sim che è una mobile, perchè io c'ho come linea che è una mobile, poi c'ho start, tastiera, poi ho il telefono, poi ho il telefono, poi i temi del telefono, la torcia, e poi c'ho dove c'è tutti i video, c'è l'app video, non è app, poi c'ho di nuovo facebook e whatsapp e youtube, ok ragazzi ragazzi, questo è tutto il mio telefono, ho il telefono a 4, e vi prego di iscrivervi al mio canale, lasciate un like, pollice all'inso, vi voglio un tanto bene, ciao!